Sono Consuello Corradi, prorettore della LUMSA per la ricerca ai rapporti internazionali. Voglio presentarvi un'iniziativa che avverrà qui alla LUMSA il 15 e il 16 di giugno. The Global Forum for Higher Education, Diversity and Social Inclusion, quindi il forum globale per l'istruzione universitaria, la diversità e l'inclusione sociale. È un convegno che vedrà partecipazione dai cinque continenti, organizzato oltre che da noi anche da alcuni degli enti che nel mondo si occupano con maggiore forza e con maggiore autorevolezza dell'istruzione universitaria. Sono il Consiglio d'Europa, il Netter Center dell'Università della Pennsylvania, il Wegeland Center e l'Australian Catholic University. È un momento particolare questo, Roma accoglie il Global Forum che due anni fa era stato nell'Irlanda del Nord e vogliamo capire in che modo l'istruzione universitaria può aiutare un momento in cui l'Europa è a rischio, la democrazia è rimessa in questione e l'esclusione sociale colpisce sia coloro che sono stati toccati dalla crisi economica europea, sia coloro che arrivano sulle sponde dell'Europa, quindi i rifugiati e gli immigrati con delle nuove speranze alle quali vogliamo dare risposta. Vi aspettiamo in questi due giorni, il 15 e il 16 giugno, tra la sede di Traspontina e la sede di Piazza delle Vaschette.